Festa a Termoli. Nella cittadina pugliese affacciata sulla costa adriatica, un'iniziativa turistico-cinematografica si è trasformata in una vera e propria spedizione geografica. Si parte non per scoprire una terra nuova, ma soltanto per battezzare una punta che non aveva nome sulle carte geografiche. In omaggio al film, i cannoni di Navarone, sarà chiamata Punta Navarone. E' l'occasione utile anche per visitare magari per la prima volta quell'incanto italiano che sono le isole Tremiti, un'oasi da scoprire sugli itinerari meno battuti del turismo mondiale. E' un piccolo mondo di scogliere nude che precipitano il mare giocando con i frutti. Un vero paradiso blu per i sud, fantomatici viandanti degli abissi. Su queste sfonde rocciose l'industria turistica sta creando un villaggio che colmerà una grave lacuna. Gli avventurosi argonauti delle Tremiti hanno inaugurato oggi il primo bungalow. Presto queste grotte non saranno più meraviglie ignorate del tesoro d'Italia.